Quando vai a definire la strategia social per il tuo albergo, devi sapere esattamente a chi stai parlando. Bene, se la prima cosa che ti è venuta in mente è stata, beh ma io parlo a tutti, allora devi assolutamente vedere questo video, perché da oggi cambierà automaticamente il tuo approccio nella gestione dei social del tuo albergo. Ciao a tutti sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della buyer persona, parleremo della persona alla quale ti devi rivolgere ogni qualvolta che andrai a definire una strategia di marketing per il tuo hotel, o comunque per una parte dei tuoi servizi. Questa cosa è molto sopravvalutata, questo aspetto, perché come dicevo all'inizio, beh voi pensate di parlare a tutti, i miei clienti sono tutti, beh ma alcuni di voi hanno delle caratteristiche così particolari che dovesse rendervene da conto da soli che voi non parlate a tutti. Ad esempio nel momento in cui non accettate i bambini, non parlate alle famiglie con bambini piccoli, oppure siete un family hotel, bene, ma voi parlate alle famiglie con bambini, allora voi mi direte, vabbè ma da me vengono anche le coppie. Sì, ma voi siete un family hotel, principalmente vi rivolgete a loro, poi effettivamente noi non andremo a scudere tutta l'altra parte del pubblico e così via. Questo sarà l'argomento che tratteremo oggi, ma prima di iniziare iscrivetevi al canale e attivate le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. E da oggi migliorerete anche voi la vostra presenza social. Bene, come dicevo andremo oggi a creare la buyer persona. La buyer persona è un aspetto per me fondamentale di quando vado a realizzare lo studio iniziale dei miei clienti, della quale vi ho già parlato in questo video. Perché è fondamentale? Perché a volte, come dicevo, nessuno, voi non sapete a chi vi state rivolgendo. Quindi in questo modo la strategia che si deve andare poi a creare non è efficace. Il pubblico che è dalla tapata dello schermo non è disposto ad ascoltarci. Perché? Perché sono bombardati da messaggi, sono bombardati di post e da pubblicità. Che come sono fatte? Sono assolutamente generiche. Che invece noi dobbiamo mirare esattamente al nostro target perché deve vedere la nostra grafica, deve vedere i nostri copy oppure i primi secondi del nostro video e deve dire a cavolo sta parlando esattamente con me, questa inserzione, questo post è fatto per me, effettivamente era proprio quello che stavo cercando. E quindi catturiamo la loro attenzione e magari li facciamo addirittura entrare all'interno del nostro fan, cosa della quale parleremo poi in un altro video. Quindi realizzare, creare una baia persona è per me davvero un aspetto fondamentale. E partiamo da cosa? Partiamo dai vostri dati, da quello che voi sapete della vostra azienda. Quindi iniziamo ad analizzare un pochino quelli che sono gli ospiti, da cui l'importanza di andare a registrare tutto, anche coloro che provengono magari da Booking. Ebbene, che fascia d'età hanno? Da dove provengono? La maggior parte delle prenotazioni da dove provengono? Perché così capiamo perché magari le persone prenotano dalle OTA e non prenotano direttamente con voi. Cosa cercano? Calcolate che la maggior parte delle persone per i vostri dati faranno sempre le stesse domande. È necessario fare attenzione in modo tale che voi poi magari nella comunicazione social o anche nell'email marketing cosa fate? Andate ad anticipare quelle che sono le loro obiezioni. Obiezioni che noi conosceremo tramite lo studio della baia persona fondamentale. E quindi a questa persona diamoli un'età. Noi diciamo tra i 20 e i 60 anni non serve a nulla e dopo vi spiegherò il perché. Quindi diamogli un nome e cognome. Il sesso, uomo, donna, non definito? Cerchiamo di definirlo. Perché magari ci rendiamo conto che sono maggiormente le donne che prenotano noi. Quindi dobbiamo parlare con un musico femminile. Oppure sono più uomini. Magari un misto bene, da oggi in poi noi faremo attenzione a questo aspetto perché ci dobbiamo andare a creare una percentuale. Purtroppo, non segnandovi i dati, che cosa succede? Che voi credete, no sì, sono sia uomini che donne. Poi dopo che vi porto i dati che abbiamo raccolto insieme, a quel punto voi mi dite, ah no, cavolo, non mi ero reso conto di questo dato, di questo dato, di quest'altro dato ancora. Magari si pensa di avere una clientela più agere, ma in realtà magari la maggior parte dei vostri ospiti sono millennials e semplicemente voi non li avete mai incontrati perché non vi siete trovati in quei momenti nella vostra stessa struttura. Quindi, iniziamo a dargli un nome e cognome anche, evitiamo il classico Mario Rossi, però cerchiamo di chiamarlo Pinuccio, che andiamo di comunque un nome e un cognome perché questa persona deve essere a noi il più reale possibile. Perché quando andiamo a pensare a una strategia, un'email, o semplicemente quel post su Facebook, quella persona deve essere il più reale possibile. Dobbiamo chiederci cosa vuole sentire semplicemente da noi, come catturiamo la sua attenzione. A volte quel nome e cognome dovrà essere straniera, perché magari la vostra clientela è prettamente straniera. Così come succede in molte strutture dove si ha fuori stagione una clientela prettamente straniera e poi l'uglio-agosto si hanno gli italiani. Quindi in quel caso che cosa succede? Che abbiamo già una seconda varia persona alla quale ci dobbiamo rivolgere. Quindi capite bene che ci sono tutti questi diversi aspetti, così come può capitare il business hotel che durante l'estate diventa più leisure e quindi dobbiamo rivolgerci a un altro tipo di clientela, che tu ad agosto sai a dire vieni da noi perché abbiamo una sala congressi, ma che gli frega quelli non verranno da te, perché quel tipo di aziende sono chiusa. Per la nostra varia persona dobbiamo capire anche altri aspetti, da dove provengono queste persone. Perché non tutta Italia è interessata a te, quindi nel momento in cui tu conosci questo aspetto, cosa andiamo a fare? Andiamo a ottimizzare il budget delle nostre campagne. Quindi invece di fare delle campagne sparse per tutta Italia, andiamo a dire bene per questa struttura, vogliamo questo target qui, che viene da questa zona, e lì andiamo a incentrare tutto il nostro budget pubblicitario. E' inutile andare a puntare la Valle d'Aosta, la Sardegna, se queste persone poi non ci vogliono venire da noi, o peggio ancora, se abbiamo un turismo di prossimità e quindi andiamo a targettizzare chissà chi. Quindi dobbiamo sempre pensare chi siamo noi, soprattutto chi c'è dall'altra parte, per creare dei posti e dei contenuti efficaci. Quindi nella religione, che tipo di religione hanno, perché magari ci dobbiamo preparare per il nostro ristorante, per ottenere un certo tipo di servizio, quali sono le esigenze, anche titoli di studio, come si muovono. Anche nel momento in cui voi sapete come si muovono, perché dite ok, sono da te di città, sono accanto alla stazione, tutti i miei clienti arrivano in, o meno la maggior parte dei miei clienti, la mia baria persona, si muove con il tremo, oppure si muove con la bicicletta, si muove con la macchina. Bene, in base a queste situazioni, avranno delle esigenze diverse e quindi magari dobbiamo andare a rispondere a questo tipo di esigenze, anche come? Andando a migliorare i nostri servizi. Conoscere chi c'è dall'altra parte ci permette di fare tantissime cose. Conoscere la vostra struttura a me permette di creare una strategia totalmente efficace e credetemi, io mi posso permettere di dirti se non sei soddisfatto, io ti rimborso, perché so che questa cosa non accadrà, perché so che ti porterò risultati, perché nel momento in cui noi iniziamo a collaborare, io da giorno dopo non ti pubblico i post su Facebook, perché è impensabile, c'è tutto un lavoro dietro, come vi dicevo già prima, ho fatto un video sul primo step che io faccio con il metodo mio, social media tele, che ho sviluppato nel corso degli anni e che miglioro anno dopo anno e quella della creazione della bella persona è un aspetto che fa parte del primo step del metodo social media tele. Alcuni di voi conoscono benissimo la clientela e quindi andiamo semplicemente a migliorare alcuni aspetti, altri, ahimè, purtroppo non conoscono la propria tenda e quindi non sanno effettivamente adesso attualmente con chi stanno lavorando, perché credetemi, a volte alcuni di voi mi dicono anche, senti, adesso io voglio cambiare la mia clientela, la clientela che ho adesso non mi piace e quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a vedere, c'è effettivamente un altro tipo di clientela, ti puoi rivolgere a quest'altro tipo di clienti se si può fare bene, bisogna cambiare la comunicazione, a volte in alcuni casi è necessario proprio fare un rebranding. In questo video ti sto riportando quelli che sono alcuni aspetti della bella persona, però calcola che ce ne sono tantissimi, però sono quelli che ti fanno capire quanto è importante effettivamente costruirla. Bene, un'altra cosa, un aspetto fondamentale che ci aiuta a capire come le persone possono arrivare da noi è capire quale tipo di utilizzo, quale tipo di dispositivo utilizzano per fare le loro ricerche online, che calcolate che adesso la maggior parte delle persone le vacanze le costruisce su un telefonino, ma sono i dati effettivamente che ci dicono, ci danno quelle risposte. E se è così, che la vostra utenza va a costruire una vacanza sul telefonino e vi cerca da telefonino e poi voi avete un sito dove sperate che loro approdino, ma che da mobile è fatto malissimo, non funziona, beh lì avete un problema e la vostra strategia non sarà efficace, ma tutti questi aspetti voi li dovete analizzare passo dopo passo. L'altra cosa da capire è come i vostri clienti preferiscono comunicare, vogliono venire, vogliono parlare dal telefono, vogliono email, vogliono prenotare in autonomia, ma bene sono tanti aspetti che noi dobbiamo conoscere e soprattutto quali sono state le problematiche del passato che loro hanno riscontrato, quali sono quelle del futuro, ascoltiamo il feedback dei clienti. Nel momento in cui noi andiamo a costruire la nostra baglia e la persona principale, credetemi, voi non andrete a perdere tutti gli altri, perché questo è uno degli aspetti che spaventa di più, ve l'ho raccontato tante volte, ma voi invece contro andrete a prendere molti più clienti, perché che cosa andrete a fare? Invece di adottare una comunicazione generalista, voi avrete una comunicazione mirata per i vostri target e automaticamente voi risalterete rispetto ai vostri competitor che continuano invece a cercare di pescare nella massa e nel micro. Ovviamente, come vi ho già detto all'interno di questo video, è possibile creare più baglia e persona. Mi è capitato di avere una baglia e persona principale e poi una secondaria, perché questa azienda creava poi eventi serali anche per i più giovani, quindi aveva un taglio di giorno alla ristorazione in un modo e poi c'aveva tutta una parte area aperitivo con il VG7 che andava a prendere un altro tipo di clientela. Ci rivolgevamo a uno, ci rivolgevamo all'altro. sempre ovviamente creando armonia nella comunicazione generale che poi si andava ad aiutare. Però sapevamo sempre esattamente a chi ci stavamo rivolgendo e nel momento in cui noi sappiamo a chi ci stiamo rivolgendo automaticamente anche poi quello che andiamo a scrivere nei nostri post sarà efficace, sarà utile, perché invece di fare un post generalista ah che bello il nostro palazzo storico andremo a creare un contenuto di valore per il nostro ospite che ha più senso poi per lui restare sulla nostra pagina e continuare a seguirci perché effettivamente quello che gli andiamo a dire è di interesse. Ora, come vi dicevo questi sono alcuni aspetti di una baria persona. Una baria persona è molto più profondita, ci sono tante cose che bisogna andare ad analizzare e questo lo si va a fare soprattutto con i vostri database. In base a quello voi da lì voi trarete tante di quelle informazioni che non ne avete idea e dovete iniziare a conoscere queste informazioni perché se no altrimenti avete un problema. Non è importante che le conosca il vostro social media manager per prima cosa le dovete conoscere voi. Voi dovete sapere in che direzione sta andando la vostra azienda perché magari voi credete di aver preso un bernoccolo ma in realtà ve li trovate con una ferita che ha bisogno di 14 punti di sutura e dal quale quindi necessita un intervento. Invece voi andate lì e continuate cosa fate? Fate continuare un'emorragia invece di andare a risolvere e risollevare quello che è il vostro hotel o comunque la vostra sutura ricettiva. Come sempre spero che questo video vi sia stato utile fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei video. Io vi aspetto nel prossimo video. Besos!